Il Cosenza dimentica la sconfitta di Livorno e torna a correre. La vittoria sulla Cremonese consente alla squadra di Braglia di allungare il passo in classifica, sorpassando anche Venezia ed Ascoli e lasciandosi alle spalle ben sette squadre, inquadrando ora da vicino la metà esatta della classifica e soprattutto allungando ancora sulla zona play-out, rispetto alla quale si tocca il vantaggio massimo di sei punti sul Foggia quintultimo. La vittoria è senz'altro agevolata dall'espulsione a fine primo tempo di Terranova, che si becca con Baes sotto gli occhi dell'arbitro, ma è meritata ed è stata ottenuta in una giornata resa difficile dalle assenze degli squalificati Tutino e Dorazio e dall'infortunio di Maniero, cui si sono aggiunti i problemi accusati da Corsi, Embalo e Didda, tutti sostituiti nel corso della gara per guai fisici. Eppure i Rosso-Blu hanno dominato la prima parte di gara, più rapidi, concreti e pericolosi, sostenuti dal gran ritmo di Palmiero e dalla fluidità della manovra offensiva. Anche se ancora una volta c'è da mettere in evidenza l'imperforabilità casalinga dei Silani, che non subiscono gol al Marulla da 5 partite e 513 minuti, cioè dal gol subito su rigore dal padovano Bonazzoli il primo dicembre scorso. Oltretutto il Cosenza assorbe disinvoltamente anche il contraccolpo del rigore sbagliato a metà primo tempo da Litteri, che all'esordio avrebbe subito potuto festeggiare ed invece si è fatto parare la conclusione dagli 11 metri da Ravaglia. Prima dell'intervallo l'ingenuità di Terranova che lascia i grigiorossi in inferiorità numerica, vantaggio che il Cosenza sfrutta in apertura di ripresa. Prima il palo nega il vantaggio a Bruccini, ma poi la sblocca Provvidenza a Schaudone, terzo gol nelle quattro gare fin qui disputate in Rosso-Blu, con una girata di testa sul primo palo su azione d'angolo. Solo allora la Cremonese reagisce d'impeto, anche se disordinatamente, alimentando un clima da corrida che costa l'espulsione anche all'uruguaiano Baez. Dermacu va vicino al raddoppio, ma è perina ad alzare la saracinesca di fronte agli assalti della Cremonese prima del raddoppio di Bruccini su calcio di rigore a due minuti dalla fine. Cosenza per la prima volta al dodicesimo posto, più vicino alla zona play-off di quanto distante sia dalla lotta per la salvezza.